Musica Albini di Pietracuta si affrontano due squadre che hanno voglia di prevalersi. Il Pietracuta deve riscattare la scofita inaspettata sul campo dai 2M. I Bellari e Giammarina vuole confermare quanto di buono ha fatto vedere in questo 2020. Le certezze, conferenze e nuova fete dove sono stati raccolti i 6 punti portano gli uomini diffusi a spingersi fuori dalla zona rossa di classifica. Il Pietracuta invece deve decidere se alzare o meno alla propria voce in questo torneo e il classe 2000 Evaristi risponde a suo modo. Il palo alla destra di Mignani è il primo campanello d'allarme che tende a far pensare che assisteremo a una partita vincente. Invece le occasioni mancheranno nel corso della ripresa con episodi da Moviola. Come in questo caso Zanni qui cade in area di rigore ma l'arbitro sorvola come un Aroni che non sembra essule da colpe. Invece dall'altra parte il rigore viene fischiate come un Aroni lancia in profondità Tomasini quale viene toccato fuori aria dal Visi. Il momento viene raccolto in questo fotograbba. Sembrerebbe che il tocco arrivi fuori aria dal descritto Fratti non sbaglia spiazzando Mignani. L'1-0 di Pietracuta spinge la formazione di Fregnani a mettere in ghiaccia il match. Qui Golinucci viene murato ottimamente da Mignani ma l'arbitro arresta tutto per posizione di offside del numero 7. Su Fessanto Posto azione manovrata di Bellaria. Bella Vista spinge in avanti Galassi. L'appoggi in direzione Zanni scaturisce lo stop e il passaggio finale per Chiusi. Qui Tiro viene sventato in corner dall'ottimo Liardini. I rosso-bru si spingono in avanti ma la concursione di Tomasini viene allontanata dinanzi alla linea di porta. Dal corner padrone di casa ancora una volta vicino a gol ma il colpo di testa termina a lato. Invece sempre di testa Tomasini chiama la parata in due tempi Mignani. I Bellaria soffre ma tenta di rendersi pericoloso con Bella Vista. Il cui tiro termina alto mentre la replica della band di Fregnani arriva con la girata in Mularoni che non reca problemi alla porta difesa da Mignani. Sul momento più bello dei locali Bellaria e Giammarina perviene al pareggio. Da punizione viene premiato il risiedimento di Pruccoli in area avversa che trova sotto misura la sfortunata deviazione di Cesarini in fondo alla propria porta. 1-1 ristabilita la parità in campo. Nella ripresa succede poco o nulla. Segnaliamo questo tiro cross sventato in corner da Mignani e dal conseguente corner ancora il portiere protagonista in uscita. Il tiro di Facondini sul versante opposto viene deviato in corner mentre al 94issimo bruma i 20 gol della domenica dando al Pietracuta tre punti sperati. Il nostro cameraman Giacomo Alpini che si scusa viene sorpreso e rimasto incantato dalla traiettoria. Prova solo ad immaginare dove possa essere finito quel pallone sicuramente nell'angolo lontano alla sinistra di Vignani. Pietracuta rispetto agli avversari forse più convinto dei propri mezzi ma sono evidenti segnali di stanchezza nella squadra di Fregnani. Che non ha brillato ma quando si vincono partite così toccando ferro è più di un segnale. La domanda è opportuna. Che sia l'annata buona vedremo.